La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo sulla morte di Arcangelo Costanzi, il 65enne ex dipendente della motorizzazione civile, deceduto venerdì scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Donato di Arezzo dopo un intervento alla schiena alla clinica San Giuseppe. Sono così attualmente in corso accertamenti da parte degli inquirenti che già nelle scorse settimane hanno acquisito le cartelle cliniche. Il 65enne mercoledì scorso si era sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena nella clinica San Giuseppe. Da quell'intervento però non si è mai risvegliato ed era così stato trasferito nella terapia intensiva dell'ospedale cittadino, dove poi è morto. L'Asla, come da prassi, ha dato comunicazione del decesso alla procura che ha contestualmente aperto un fascicolo. La vicenda adesso è seguita dal sostituto procuratore Angela Masiello. Anche i familiari del 65enne infine chiedono chiarezza sull'accaduto ed hanno già dato mandato all'avvocato Francesco Molino di assisterli nella ricerca della verità.